Parte questo cantiere di riqualificazione in una zona che aspettava interventi? Le riqualificazioni sono all'insegna della città policentrica, perché quello di Via Trieste è il primo in ordine di tempo di una serie più vasta di interventi che riguarderanno tanto il centro quanto le periferie della nostra città. Esattamente come abbiamo fatto ieri mentre ci siamo recati in Via Terno per informare la popolazione residente dell'avvio dei lavori. Siamo contenti di questo, cominciamo con l'intervento più rilevante perché l'intervento riguarderà la prima delle perpendicolari Marimonti dopo Via Roma da riqualificare con l'idea che dopo Via Trieste ci dovrà essere Via Genova e così via andare. L'idea è di immaginare una zona a chilometri 30, una zona in cui non si perderanno posti auto ma in cui ci sarà una complessiva riqualificazione del marciapiede della sede viaria, immaginando, ma questo lo si vedrà a lavori terminati, anche differenti colori per i differenti usi, dal transito dell'automobile, dal transito dei pedoni, alle aree di sosta per le automobili stesse. Insomma, Pescara si fa bella.